Credo che sia tra l'altro una necessità assoluta che si riscontra in più settori, non soltanto in politica. I giovani devono tornare ad essere protagonisti del presente perché altrimenti lo scollamento sarà sempre maggiore e soprattutto devono iniziare a essere loro i protagonisti anche di quelle che sono le dinamiche dei territori che vivono. E' pur vero che molti dei giovani sono costretti ad andare via ma io sono convinto che attraverso la consapevolezza, oltre che attraverso delle politiche che realmente guardino allo sviluppo di questo territorio, i giovani possono davvero essere qui artefici del loro destino. Questo è un po' il presupposto dal quale si parte e chiaramente vale anche per l'organizzazione giovanile del PD che in questi anni ha avuto alcune difficoltà e che non ha espresso organismi. Chiaramente questo è stato un limite per l'intero partito. Oggi i giovani si stanno riorganizzando, noi stiamo dando una mano ma lo stanno facendo davvero in grande autonomia affinché i giovani democratici tornino ad essere un bungolo continuo per il partito. E' anche ovviamente una fucina di idee perché si sa che la visione dei giovani è importante, ovviamente integrata con tutto quello che sono altri elementi per cercare di tenere in piedi un ragionamento serio o che possa guardare a una prospettiva che il nostro territorio deve tornare ad avere partendo dai giovani.